Noi pensiamo che un'alleanza di partiti e movimenti di estrema destra che si professano apertamente razzisti e xenofobi sia prima di tutto un'alleanza di partiti che non si rispecchiano assolutamente nei valori che sono i valori dell'Unione Europea e poi perché il fatto che questa alleanza di partiti abbia aperto un locale proprio a Excel che è uno dei quartieri più multiculturali e misti di Bruxelles pensiamo che sia una cosa pericolosa per il quartiere e che non vada assolutamente nell'ottica di quello che è lo spirito di questo territorio Noi abbiamo iniziato da un paio di settimane ad andare più che altro nei negozi a incontrare i commercianti a sensibilizzarli un po' a informarli anche su questa cosa perché non si sa molti hanno detto che non ne sapevano nulla stanno reagendo bene molti hanno già messo i volantini che sono questi o anche quelli più grandi sulle vetrine questo è un po' il nostro obiettivo quello di tappezzare il quartiere di questi manifesti e la risposta quindi è positiva e tutti, la gran parte comunque sono d'accordo sul fatto che un locale di questo tipo non debba stare a Excel Noi riteniamo che sia oltraggioso il fatto che un'istituzione che è stata creata o che perlomeno è organica all'interno di istituzioni che sono state create dopo la seconda guerra mondiale quindi dopo una guerra alla quale si è arrivati a causa di movimenti di questo genere ritorni dopo 60 anni a finanziare lo stesso genere di movimenti Questo tipo di violenza in Belgio già c'è stato perché nel 2015 a Place Luxembourg dei militanti di Nation che è l'equivalente belga di Alba Dorata hanno massacrato di botte un senza fissa di mora e hanno anche più o meno nello stesso periodo aggredito dei San Papier che stavano facendo una manifestazione davanti al Parlamento quindi questi fatti già sussistono e questo tipo di posto non può che aumentare la frequenza Sì, anche se ti dirò che nel corso della campagna proprio mentre si incontrano le persone usare questa parola è un po' scomodo nella misura in cui molti ci hanno addirittura chiesto se vuoi dire qua cioè non sanno che cosa voglia dire però noi cerchiamo di spiegare che il fatto di essere partiti a questi movimenti di estrema destra razzisti, xenofobi secondo noi attribuisce a questi movimenti e a questi partiti l'attributo di neonazia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti